Un programma presentato da Fano Computer, da più di vent'anni al vostro servizio Via Fraghetto 8, Fano Running Center, scarpe e abbigliamento per la corsa e le camminate Via Flaminia 69, Lucrezia di Cartoceto Agenzia Generale Unipolsai, Aniballi e Associati Sede di Fano, in via delle Querce 11, zona ex Zuccherificio Sede di Pesaro, in via Mameli 72, centro direzionale Benelli Francesco Gomme e Servizi, sostituzione e riparazione degli pneumatici Le migliori tecnologie e soluzioni per ogni tipo di veicolo Via Agnelli, Lucrezia di Cartoceto Walter Pucci, carpenteria certificata, lavorazione laniere e creazioni in ferro battuto Via Toniola 8, Bellocchi di Fano Buonasera e bentornati a Sportissimo Puntata numero 24 del settimanale di Fano TV Anche la sesta di questa seconda stagione Partiamo con il calcio e la notizia del giorno Marco Scorsini non è più l'allenatore dell'Alma Juventus Fano Risoluzione consensuale del rapporto Questo ha recitato la nota ufficiale della società arrivata nella tarda mattinata Che la posizione del tecnico laziale fosse a rischio Lo si era ampiamente intuito Al termine della gara pareggiata domenica scorsa Con la Digor Senigallia Il vicepresidente Pantaleoni aveva annunciato una sorta di pausa di riflessione Che investiva anche la posizione del tecnico Che sembrava essere stata rinsaldata almeno 24 ore fa Poi in mattinata un confronto con il presidente russo Che ha portato alla decisione concertata di interrompere il rapporto Al momento squadra affidata al vice di Marco Scorsini Alberto Rondina che ha diretto l'allenamento di questo pomeriggio Assistito da Luca Spendolini Si è fatto da parte anche Bruzzesi Che era stato collaboratore stretto di Scorsini Ovviamente saranno da seguire Gli sviluppi delle prossime ore In funzione di eventuali nuove decisioni Da parte della proprietà Che evidentemente Non è rimasta particolarmente soddisfatta In particolare dell'esito Delle ultime quattro partite Che peraltro hanno posto la formazione granata A compagini costruite per competere ai massimi livelli Quando l'obiettivo dichiarato dell'Alma di quest'anno È quello minimo Domenica scorsa il 2-2 con la Vigor Senigallia In una gara in cui L'Alma ha preso quota nel corso del primo tempo Dopo essere andata sotto Sul sviluppo di un calcio d'angolo Le palle inattive hanno rappresentato Domenica scorsa un nervo scoperto Evidente l'errore di Viscovo Che ha consentito Alla Vigor di passare in vantaggio Con Scheffer L'Alma però ha esibito una reazione Decisamente convincente Con la meravigliosa doppietta di Tenkorang Davvero due gol Di ottima fattura È riuscita a capovolgere La situazione A dare l'impressione Di poter venire a capo Della resistenza di questa Vigor Specie quando L'avvio di ripresa Ha costruito la palla chiara Per il 3-1 Sprecata Dallo stesso Tenkorang Poi ci si è in qualche modo consegnati Ad una sofferenza continua Con la Vigor che attaccava Continuava ad inanellare Calci da fermo Che l'Alma continuava a soffrire Fino al gol Dell'ex Broso Appena entrato in campo Sull'ennesimo corner Che appunto la difesa Granata Non ha saputo interpretare al meglio Una vittoria avrebbe forse cambiato Il futuro di Scorsini Non è detto perché Certi scricchioli Si erano avvertiti Palpabile Il fatto che l'atteggiamento Sempre molto prudente Adottato dal tecnico laziale Non fosse più Così gradito alla proprietà Che evidentemente Ritiene che questa squadra Possa dare di più Al di là di un calendario Che nell'ultimo periodo Appunto la posta di fronte Ad avversari Particolarmente competitivi Velocemente La classifica E i risultati Partendo da questi ultimi Relativamente all'ultima giornata Con la samredettese Che liquida anche il Matese E rafforza la propria leadership Alle sue spalle Si fa luce l'Avezzano Che ha battuto L'Atletico Ascoli Prossimo avversario dell'Alma In una gara Che come possiamo desumere Dalla classifica Avrà un'importanza specifica Rilevante Per la classifica E non solo In questo momento Del campionato Granata Con l'Alma Che è al limite Della zona play-out Che condivide La propria posizione Proprio con l'Atletico Ascoli E passiamo ora Alla pallavolo Ci si aspettava Una Smart System Da vertice E la Smart System Sta onorando Le aspettative È vero che ha perso Una partita Quella di Sorrento Ma è altrettanto vero Che ha nello lato Cinque vittorie L'ultima Delle quali Perentoria in casa Con Casarano Parleremo di questa partita Ma anche del campionato Che si sta sviluppando Con Andrea Guidi Team manager Della squadra fanese Buonasera e benvenuto Ciao Andrea Buonasera a tutti E con Peter Mikalovic Opposto della Smart System Buonasera anche a lui Buonasera a tutti Smart System Che dicevamo È stata artefice Di una prestazione Decisamente confortante Domenica scorsa Con il Casarano Era una prestazione Non è attesa Perché si veniva Appunto dallo stop Di Sorrento Al termine di una prova Invece piuttosto deludente Una gara Quella di Sorrento In cui la formazione Di Tofoli Aveva comandato A lungo Salvo poi sprecare Vantaggi importanti Quei vantaggi Che si è costruita Domenica scorsa Con Casarano Ma in questo caso Quei vantaggi Sono stati capitalizzati Gara a senso unico Andrea Da cosa è stata determinata Questo tipo di prestazione Beh innanzitutto Dalla voglia di rifarsi Dopo una partita Gestita non bene A Sorrento Siamo usciti sconfitti A Sorrento Ma soprattutto Siamo usciti Con la consapevolezza Che l'avevamo un po' Buttata In certi frangenti Perché Al di là del primo set In cui siamo stati Più o meno sempre sotto Poi nel secondo Nel terzo Nel quarto Abbiamo sempre condotto Con margini Abbastanza ampi E il secondo Siamo riusciti A portarlo a casa Ma poi invece Nel terzo e nel quarto Ci siamo fatti raggiungere Grazie a Poca fluidità di gioco Molte imprecisioni Tante disattenzioni E quindi Insomma Ne siamo usciti Con grande rammarico Per un'occasione buttata E quindi C'era tanta voglia Tra l'altro Toffoli Non l'ha mandata a dire Alla fine della gara No Toffoli non l'ha mandata a dire Toffoli è una persona Straordinariamente tranquilla Ma Come tutte le persone Straordinariamente tranquille Quando perde la calma Ci si accorge subito Insomma E quindi È stato molto evidente Il rammarico suo Ma che era un rammarico Di tutti quanti Insomma Non soltanto suo La gara con Casarano Petter Siete stati subito Molto aggressivi Soprattutto con la battuta Praticamente Non avete mai permesso Agli avversari Di entrare concretamente In partita Sì Sono d'accordo Anche con Andrea Che dopo una sconfitta Quella che abbiamo fatto A Sorrento È brutta Quindi subito Volevamo rifare E andare Molto Molto Decisi in campo Sì esatto E abbiamo fatto Dalla prima palla Che era Per noi È molto importante Mettere la pressione Con la battuta Quando questa cosa va È difficile Giocare contro noi Abbiamo Visto quello Che è successo Contro Casarano Abbiamo fatto Contro la Sabaudia È sempre bello Vincere così Ma Come Ha detto Andrea È importante Avere Questa continuità Contro Quelle squadre Tipo Che è successo A Sorrento Perché poi Abbiamo perso Tre punti Che nessuno Riderà indietro Alla fine Esatto Poi ovviamente Tutto è aperto Perché Contro quelle squadre Che sono adesso Avanti Di noi Macerata Solo Poi Lago Negro Vicino San Giustino Ancora Dobbiamo giocarle Ma Dobbiamo pensare Questa cosa Che non possiamo Fare troppi errori E Spingere la battuta Smart System Che ha portato A casa Successi significativi Anche in trasferta Ma mi pare che L'apice del rendimento Lo stia raggiungendo In casa Vi dà fiducia A giocare davanti Al proprio pubblico E in un pala assaiente Che comunque Anche per le dimensioni Qualche difficoltà Le squadre avversarie Le crea Sì ovviamente A casa Sempre più facile Anche grazie Al nostro pubblico Che è sempre Presente Proprio Palazzetto Quasi pieno E Sempre molto bello Di giocare Avanti Tante persone Quindi quello Dà anche la fiducia Poi ci alleniamo Ogni giorno In nostra palestra Quindi Avete anche Dei riferimenti Molto precisi Soprattutto al servizio Questo fa la differenza Sì Ma dobbiamo pensare Per fare questa cosa Anche fuori Quindi spero Che Che Riusciamo Per il momento Però ci si concentra Di nuovo Sul pala saiende Perché È in programma La seconda gara Casalinga consecutiva Domenica prossima Contro Lago Negro Che è una di quelle Formazioni indicate Per competere Fino alla fine Per la promozione Sì Giochiamo Domenica La seconda consecutiva In casa Lago Negro È una bella squadra Lago Negro È una bella squadra Ha Un ottimo posto Una compagine Con buona individualità Sta facendo bene I risultati Lo confermano È lì In classifica Assieme a noi E Tra l'altro È reduce Da un tie break Risolto Probabilmente All'ultimo pallone Con macerata Altra squadra Costruita Per il salto Di categorie Assolutamente Sì È una squadra È una squadra Molto combattiva Lago Negro Nel senso che Ecco Ha perso Domenica scorsa Terra 2 Il tie break Ma è stata Poteva assolutamente Vincerlo Era avanti Nel quinto set È una squadra Con alcuni giocatori D'esperienza E sarà Una bella prova Per noi Per vedere A che punto Siamo nel processo Di crescita Che ci siamo Prefissati All'inizio della stagione L'impressione Che si sta ricavando Peter Tu non eri presente L'anno scorso È che rispetto Al girone nord Che la Smart System Allora Vigilar Frequentava L'anno scorso Nel girone sud Ma questo era facilmente Preventivabile Ci sono squadre Sempre molto combattive Che non mollano mai E che quando invece Tu rallenti Rientrano immediatamente In partita Insomma Squadre che non si battono Da sole Esatto Sì È successo Due volte Che abbiamo vinto Diciamo facile Ma abbiamo visto Che le squadre Lottano E poi Quella più forte Sicuramente Sarà ancora più difficile Combatterle Quindi Dobbiamo stare Molto concentrati Tutto il tempo Per fare Il nostro lavoro Hai detto Dell'importanza Della battuta Per mettere sotto pressione La ricezione avversaria Impedire all'avversario Di fare il suo gioco Questo ha Un ulteriore risvolto Perché una squadra La Smart System Si è vista anche domenica Dotata al di là Dei mezzi tecnici Di qualità fisiche Non comuni Per cui Mettere in crisi Il gioco avversario Consente poi Anche ad un muro Dotato Di prendere misura Continuità Quindi io sono convinto Che alla fine Arriviamo Pronti per fare Un salto importante Anche perché si tratta Di una squadra Rinnovata per metà Tu sei una di quelle Novità Tra l'altro Sei arrivato A ridosso del campionato Chiaramente questo Ha comportato Un periodo Di Perfezionamento Della tua condizione fisica E anche Per raggiungere La migliore intesa Con i compagni A che punto sei Fisicamente E qual è il grado Di intesa Con i compagni Che avete raggiunto In queste settimane In questi mesi Diciamo che Inizio a sentire Un po' più in forma C'era difficile Entrarsi subito Veloce Nella squadra Nel gioco Trovare la fiducia Con il palaggiatore Quindi Tutto Un po' Ero Un po' indietro Ma Piano piano Mi sento Melio Avevo più confidenza Quindi sono sicuro Che Le prossime gare Si Si anche vede Questo E i risultati Saranno In nostro favore Anche perché Si tratta di allenarsi Ma soprattutto Di mettere partite Nel proprio bagaglio Certo Certo Cioè Allenamento È una cosa E poi partita È un'altra Quindi Si deve Stare anche Tranquillamente Con la testa Con la mente Poi Poi Quando Si trovano Cliccano Tutte le cose Poi Si vede Anche Che Sono venuto Qua Per Per dare La differenza Quindi Ed è quello Che si attende Naturalmente Anche la società E lo staff E lo staff Tecnico Che gruppo è Questa Smart System Ha accenato Peter Al fatto Che ci sono Giocatori Anche molto Giovani Con un bagaglio Di esperienza Limitato E questo Magari Contribuisce A spiegare Le montagne Russe Di qualche Partita Di questa Prima parte Della stagione Sì È una squadra Che è stata Costituta Come la volevamo Nel senso Che È una squadra Che Non so Non è detto Che sia la squadra Migliore del campionato Ma io sono convinto Che è la squadra Che ha Il più alto Potenziale Nel girone Nel senso Che ci sono Tanti giocatori Giovani Ma di Grandissima Prospettiva Giovani Sia per età Che Per pallavolo Giocata Quindi per Numero di campionati Che hanno fatto Ma che stanno Già facendo Molto bene È una squadra Che I cui componenti Stanno molto bene Assieme E questo è un fatto Stagionemente positivo È una squadra Che si allena tanto Perché i ragazzi Passano tante ore In palestra E Cercano di starci Nel modo più produttivo E più costruttivo Possibile Ed è Ti ripeto È una squadra Molto stimolante Poi c'è tutto Questo discorso Allenata Da Paolo Toffoli Che è tornato a Fanno Dopo tantissimi anni Insomma Penso che Possa essere un campionato Dal grande fascino E dalle grandi opportunità Noi La cosa che ci siamo detti All'inizio Me la ricordo benissimo Primo allenamento È stata quella di Fare Certamente Il meglio possibile Poi comunque Di chiudere il campionato Senza avere Alcun impianto Rispetto A quello che si sarebbe Potuto fare La strada è questa È chiaro che ci sono Degli alti e bassi I bassi per il momento Non sono stati tanti Ma La possibilità di crescere Di fare bene È notevole Abbiamo detto del lavoro Che Mikalovic Ma anche i compagni Stanno sviluppando Per raggiungere L'affiatamento ideale Mi pare che questo lavoro Non l'abbiate dovuto fare voi In particolare tu Con Roscini e Toffoli Perché vi conoscete Da una vita E credo Che da questo punto di vista Siete partiti avvantaggiati Sì Siamo partiti Certamente avvantaggiati Dal punto di vista Della comunicazione Perché Comunichiamo assieme Da quando eravamo piccoli Sono stato compagno Di classe di Paolo E sono cresciuto Assieme a loro Assieme a Simone Insomma Abbiamo condiviso Milioni di cose C'è un fatto Un po' strano Per cui Mi ci sono trovato Un po' inaspettato Per me Nel senso che Io comunque sono un po' Quello che deve Cercare di coordinare Un po' tutto quanto La società I tecnici I giocatori Quindi sono un po' Quello che deve Tentare di risolvere Un po' tutti i problemi Ed è una comunicazione Un po' diversa Rispetto a quella Che eravamo Abituati noi A cena O sotto l'ombrellone E cioè Devo porre anche Delle questioni Che se fossero due persone Con cui non ho Nessun tipo di rapporto Magari farei Molta meno fatica Mentre qua Devo essere sempre Fare attenzione Calibrare Da un punto di vista Della sensibilità personale Perché comunque C'è un'amicizia Una storia Però tutto sta funzionando Perfettamente E da quel punto di vista lì C'è una collaborazione Assolutamente totale Nel rispetto Chiaramente Delle competenze Cioè Anche loro hanno capito Che comunque io sono là Non perché sono un loro amico Ma perché ho un ruolo E lo devo fare Nel miglior modo possibile Com'è Peter Essere allenati Da un giocatore Allora Adesso allenatore Che ha vinto tutto O quasi tutto Cioè Io conosco Paolo Per poco Ma Quello che Che ho capito Cioè Lui Capisce il pallavolo Quello è importante Per me Sì L'avevamo immaginato Per poco Ho avuto Tanti allenatori Cioè Di ognuno Si può imparare qualcosa Ma Mi sembrava Ogni tanto Che Alcuni Non Cioè Hanno visto Una cosa E dobbiamo Fare Fare Quello Ma Non è Non è sempre Quello Si deve Capire Si deve capire Quello che è Importante Adesso è molto importante Battuta Poi Anche ricezione Ovviamente E su quello Lavoriamo tanto E quello Mi piace Che Forse Ultimi anni Mi è un po' mancato Quello Poi C'è Lui Dice che Dobbiamo Dobbiamo stare concreti Nell'allenamento Che si deve Che si deve Finire Esercizio In modo buono Vincere Quello Come Come dire Aiuta A sviluppare Una mentalità Vincente Si esatto Anche È difficile Per noi Anche perché Poi siamo stanchi Fini allenamento Forse Era una settimana Difficile Ma Anche in partita Sarà così Quindi Alla fine Secondo me È un modo Di fare La mentalità Vincente E pensare Pensare La battuta E poi Ricezione Che sono Ormai In palavolo Quelle cose Fondamentali Quindi io C'ho Molte Buone impressioni Di Paolo Peter Mekalovic Giocatore Slovacco Miglior giocatore Slovacco Credo per un paio Di stagioni O anche tre Non il primo Slovacco a fa Perché ricordiamo Che trent'anni fa La prima avventura In Serie A L'allora Carifano Acquisì le prestazioni Di Michinska Che era nazionale cieco Di Stefan Kerstianski Che era invece Nazionale Mi ha detto Andrea O Può essere O Paolo Qualcuno Forse lo stesso Roscini Che all'epoca Può essere anche E all'epoca Già presidiava La partita Assolutamente Dicevamo Della Tua lunga esperienza Sui campi Un po' Di tutta Europa Sei arrivato in Italia Abbastanza giovane Hai giocato diversi Campionati In diverse categorie Poi hai cominciato A perlustrare Appunto I campionati europei Questo Ti ha arricchito Quali sono state Le esperienze Più importanti Che hai sviluppato Sicuramente Quello che mi è rimasto In cuore Era Italia Perché Ero Diciamo Quattro anni In Repubblica Ceca Subito dopo la scuola Ma Quello è Molto vicino A Slovacchia Si parla Propriamente Proprio La stessa lingua Si capisce Poi A Italia Sempre Era il mio sogno Per andare qua E giocare Perché Un paese Di pallavolo Che Si diceva Anche Sicuramente È fatto Che Numero uno In Il mondo Per il pallavolo Quindi ero Quattro anni Qua Poi sono Un po' Andato Fuori Nella Europa Diciamo E con Ce l'ho Tante memorie Anche di quello Che Mi hanno capitato I beli anni Ma Quelli Più Più Diciamo che Sono rimasti In Nel mio Memoria Erano Quelli In Italia Sicuramente E ti è rimasta Anche una buona Conoscenza Della lingua A distanza Assolutamente A distanza Di anni Andiamo a dare Un'occhiata Ai risultati Dell'ultima Giornata In particolare Facevamo Riferimento Al Tiebreak Che ha risolto La sfida Fra Lago Nego E Macerata Che era L'evento Chiave Insomma Della domenica Quel sorrento Che vi ha dato Un dispiacere È inciampato A Lecce Abbastanza Fragorosamente Questo dalla misura Anche dell'equilibrio Che caratterizza Almeno questa prima parte Della stagione San Giustino A sua volta Regolando il Marcianise Sta risalendo La china Come vediamo Dalla classifica Che mette Macerata davanti A tutte Ma la smart system È a una lunghezza Poi appunto Lago Negro E San Giustino Dicevamo prima Potrebbero essere Queste quattro Le formazioni Che si giocheranno Il salto di categoria O comunque Un posto chiave Nei playoff Ma È possibile Sai La formula È la formula Dell'anno scorso Quindi Poi alla fine Sì Arrivare primi Conta ma Conta di più Arrivare in forma Al momento Bravo Assolutamente Lo si è visto Poi l'anno scorso È evidente Che queste Quattro squadre Potrebbero essere Quelle che Magari Non so in quale ordine Potrebbero occupare Alla fine Della stagione I primi quattro posti Che poi Sono posti appunto Non definitivi Nel senso che poi C'è tutta la fase Dei playoff Sono squadre Secondo me Molto ben attrezzate Macerata E San Giustino Ci abbiamo fatto Delle amichevoli In precampionato Noi eravamo Senza opposto Quindi eravamo un po' così Però già Abbiamo visto L'ottimo livello Di queste due E Lago Negro Io l'ho visto un po' In tv Ma c'ha come dicevamo Prima Nomi importanti Per la categoria Ed è una squadra Che comunque È stata allestita Per fare bene Se proprio ti devo dire qualcosa La squadra Che ha Così Palmi Magari potrebbe essere Un po' più in alto Rispetto a quelle che sono Tra l'altro A Palmi Gioca Stabra Che Esatto Qua ha disputato Che comunque Esatto L'abbiamo visto a Fano Era un ottimo giocatore Ecco Chiudo dicendo Che sì è vero Noi abbiamo perso A Sorrento Non bene Ne abbiamo parlato prima Ma forse Si rivaluta un po' La vittoria Della prima giornata Che abbiamo fatto a Lecce Perché 3-0 a Lecce Sai la prima partita Tu non sai bene Com'è il valore dell'avversario Ma poi Lecce in casa Non è una squadra Così Così malleabile Ti fa passare Dei bei momenti E quindi Come dicevi tu Sarà un campionato Molto Molto combattuto Grazie Ad Andrea Guidi Team manager Della Smart System Grazie a te Andrea Grazie a Peter Michalowicz Opposto Della squadra fanese Noi torniamo Fra qualche attimo Torniamo ad occuparci Dopo un po' di tempo Di basket Lo facciamo volentieri Aprendo una finestra Sul basket fanese Ospitando questa sera Il presidente del basket fanum Gianluca Castellani Buonasera e benvenuto Buonasera E il responsabile Del settore giovanile Della società fanese Luca De Aless Buonasera e benvenuto Anche a lui Buonasera Grazie dell'invito Basket fanese E qui è doveroso Cominciare Da quella che è stata La storia Del basket fanese Anche il rapporto Ad una realtà Quella pesarese Che ovviamente Non è Comparabile A quella fanese Che però Nel suo piccolo Chiamiamolo così Ha sviluppato Un suo percorso Negli anni Anche garantendosi Una certa continuità A Castellani Sì Sì dunque Noi A febbraio Del Del 2025 Facciamo 40 anni Di attività L'abbiamo riaperta Perché quando Quando giocavo Quando giocavo io Siamo andati avanti Per un certo periodo Siamo arrivati Fino all'allora Serie C Che non è Equiparabile Con quella di adesso E poi Ci sono stati Un paio di anni Di stop Dove a Fano Non c'è stato nulla Poi grazie Alla volontà Di Il Conad San Lazzaro Di fianco Il Palazzetto Che ci ha finanziato Siamo ripartiti Da zero E la data È il 25 febbraio Del 1985 E in occasione Di questa Ricorrenza Io personalmente Aiutato anche Da qualcun altro Stiamo preparando Del materiale Di allora Dove raggruppa Gente Nota Fanese La maggioranza Sono quasi tutti Medici Perché Si parla Di De Marchi Frausini Battistini Barocci Barbieri Ed altri Dove Dove Praticamente Siamo partiti Di nuovo Da zero Abbiamo Iniziato Giocando All'aperto Al Donorione E poi Piano piano Ci siamo spostati Dietro la trave E poi Siamo riusciti Ad entrare Al palazzetto La sensazione Che avete sempre dato Voi del basket Fanese Vi chiamo così Sì È quella di essere Un manipolo Molto agguerrito Molto Solido E anche Molto unito È stato così In quei decenni Diciamo così Più che agguerrito Molto Molto unito Quello sì Siamo stati sempre Coesi Tra noi Con la volontà Di divertirci Ma Di Cercare di Crearci uno spazio Insomma In mezzo Calcio Pallavolo E ultimamente Anche ginnastica Ecco Quanto è difficile Fare basket A fan Qui devo stare attento No È difficile Chiaramente Noi non abbiamo Grossi Grossi spazi Poi quest'anno Ci è capitata La chiusura Del Del liceo scientifico Della palestra Del liceo scientifico Che ci ha creato Delle enormi difficoltà Perché il 70% Delle ore Erano Destinate a noi E quindi Siamo dovuti andare In altre palestre Andando a bussare Varie porte A cominciare Dall'ufficio sport Fino alle altre società Però Nonostante Ci siano Discreti rapporti Con tutti Una volta che Una società sportiva Si Si installa In una In una palestra In un palazzetto Quello che è Poi è difficile Andare a ritagliarsi Degli orari E a noi Sono capitate Palestre Cioè chiamarle palestre Quasi un lusso Ma comunque Siamo alla palestra Delle magistrali Alla palestra Del liceo Classico E poi Siamo dislocati A Cucurano Siamo dislocati A bellocchi Palazzetto Lo spazio E quello che è Perché tra Virtus E ginnastica C'è poco spazio Se non Per le squadre Under 17 Under 19 Quelle più grandi È la promozione Tutto il settore La gran parte Del settore giovanile È tutto dislocato In queste palestre qui Però per esempio Ieri Io ogni tanto giro Ho fatto un salto Al palestra Delle magistrali Che diciamo Poco più grande Di questa stanza E c'erano 27 bambini E quindi Ecco Di quali numeri parliamo? Il basket fan Quanti tesserati conta? Circa 200 tesserati Tra mini basket E settore Algonistico Come? Non pochi Non pochi Potremmo avere molto di più Ma tanto Non riusciremo poi Dopo a collocarli Quindi Il numero nostro è quello Non Né più né meno Insomma Il 200 è il massimo Numero che comunque Dà la misura Forse di una passione Che tra i più piccoli C'è per il basket Chiaramente L'NBA in questi anni Ha In qualche modo Alimentato il proselitismo È così Luca? Beh certo Anche Anche i buoni risultati Nella nazionale italiana Magari Agli ultimi Europei e mondiali Hanno fatto sì che Comunque il nostro movimento Prendesse Diciamo Piede E ancora più forza All'interno della città Come diceva il Presidente Siamo intorno ai 200 E Questo ci Diciamo che ci sistema Tra le prime tre società Della provincia E le prime cinque Della regione Per numero di tesserati Quindi siamo una realtà Nonostante abbastanza Insomma Limitata Siamo una realtà importante Ecco E Come si sviluppa L'attività di reclutamento Siete presenti nelle scuole? Avevamo uno dei Più grandi progetti Scuole d'Italia Che congelgeva praticamente Tutte le scuole elementari Di Fano E purtroppo però È andato a A perdersi Insomma Con la pandemia Procediamo Tamite passaparola Principalmente Grazie alle famiglie Che ci affidano i ragazzi E riscontrano Insomma Un bel ambiente Sano Perché quello Alla fine È il nostro primo obiettivo Offrire un ambiente sano Di crescita Con valori E poi dopo C'è il sogno Di NBA E la palacanestro E quindi Passaparola E poi Pubblicità Insomma Su tutti i canali disponibili Ecco Ecco Ne hai fatto già accenno Quali sono i criteri Che seguite Nello sviluppo Di questa attività A livello giovanile? Cerchiamo Prima di tutto L'integrazione E quindi Nessuno verrà mai Non facciamo selezione Accettiamo i ragazzi A tutte le età Quindi anche un ragazzo Che vuole cominciare Appassionato al basket A 15, 17, 18 anni Trova spazio da noi Il che non è Insomma Non è comune E cerchiamo di creare Dei gruppi Prima di tutto Dei gruppi Che Che permettono ai ragazzi Di crescere in maniera sana E E Non nella competizione assoluta Poi è chiaro Ci sono anche risultati Il miglioramento E tutto quello che Insomma Lo sport Propone Però C'è una parte Di valori Che noi mettiamo Avanti a tutto Mi pare che in questi anni Abbiate aperto anche dei fronti Basket femminile Se non sbaglio Ma anche baskin Allora Il basket femminile È una prova Partiamo quest'anno Cioè Siamo partiti quest'anno E Qual è stata la risposta La prima risposta È ancora Una pubblicità abbastanza massiccia L'abbiamo fatta solo quest'anno Le bambine Fino ad allora Erano prese Dai vari gruppi maschili Perché fino Fino ai 13 anni Le bambine Possono giocare insieme I ragazzi E Eravamo Erano una decina E quindi Siamo voluti partire Siamo 12-13 Purtroppo Di età Non Sono del 2011 2012 2010 Quindi non sono Proprio omogenee Però partiamo E vediamo Camin facendo Se con la pubblicità Del campionato E magari dei servizi Su Facebook Su Instagram Riusciamo piano piano Perché poi Sono quelli i canali Da utilizzare nel 2023 Invece il Baskin Il Baskin Era un progetto Molto bello Partito Grazie anche La madre di Luca Che poi ha avuto Qualche problema Ecco vogliamo spiegare Di cosa si tratta Che cos'è il Baskin Prima di tutto Allora Spiegalo tu Che sei più Dentro Allora Baskin sta per Basket integrato È una disciplina Che permette Di giocare Appunto a basket Senza nessun tipo Di Differenze O tutti incidono Allo stesso modo Al risultato Quindi darle Il ragazzo con disabilità Al ragazzo Che magari è appassionato Al basket Ma non ha mai giocato O all'ex giocatore O al giocatore Insomma Che sta giocando In quel momento Quindi Diciamo una disciplina Molto bella Io tra l'altro Ho giocato E allenato anche Baskin Che sarebbe importante Riportare Insomma In attività Perché siamo un attimo Fermi Anche lì Ecco Da un annetto Sì C'è anche una prima squadra Come interpretate Ecco il ruolo Della prima squadra In questo contesto Che è chiaramente orientato Verso l'attività di base Allora La prima squadra Per scelta Siamo voluti scendere Noi eravamo In serie D Però non riuscivamo A coprire Con i ragazzi Nostri Il campionato Ad un livello Accettabile Insomma E quindi anche Per via dei parametri Che ci sono Nel basket A partire dalla serie D E poi Che vuol dire Che tu se prendi Un giocatore da fuori Lo devi pagare Hai un tetto proprio E allora abbiamo deciso Di scendere di categoria Dove innanzitutto Non ci sono i parametri E secondo Dove possono approcciarsi meglio I nostri giovani Non solo quello Ma anche gli impianti E qui ritorniamo Nella nota dolente Perché il Baskin E diciamo Veicolato Nella palestra Del liceo classico Che non è neanche idonea Perché ha i gradini Cioè quando si entra Ci sono 6-7 gradini Per scendere E allora Con delle persone Che hanno delle problematiche Non è il massimo Poi la palestra è piccolina Però tanto lo spazio È quello che è Adesso Ho preso Di nuovi accordi Con i genitori E sembra che Entro la fine dell'anno Si possa riniziare Perlomeno Ad allenarci E dopo Vediamo Insieme Anche una società di Pesaro Di poter fare Anche un campionato Nazionale Ecco appunto Pesaro Come si rapporta Il basket fanese Con Pesaro Che rappresenta Una sorta di molo Del basket Italiano Con la sua tradizione E anche il suo presente Insomma Tutte le domeniche In casa 5.000 persone O giù di lì Sicuramente Avere una società Di massima serie Quindi di serie A1 A 15 chilometri È una cosa importante Anche dal punto di vista Pubblicitario Diciamo che Magari qualcuno Comincia Anche perché C'è Pesaro vicino Dal punto di vista Dei rapporti societari Noi siamo in buoni rapporti Con tutti Tutte le società Del pesarese Tant'è che noi Abbiamo anche molti ragazzi In prestito In giro per le marche E non solo Abbiamo un ragazzo A Forlì Abbiamo ragazzi Ex settore Giovede basket Fanno che giocano In Toscana Insomma In giro per l'Italia Cerchiamo sempre Di trovare la soluzione La soluzione migliore Per i ragazzi Questa alla fine È la cosa importante Che può essere Una volta Magari vengono da voi E una volta Vengono in prestito Da noi Collaboriamo per fare Delle squadre migliori Per partecipare A dei campionati migliori Quelli di eccellenza E teniamo una porta aperta Verso tutti Ecco Basket Fanum Non c'è lo sponsor Ora Scivoliamo al discorso Dei costi Comunque Un'attività Di una società Di una qualsiasi società Comporta delle spese Magari dotarsi Di uno main sponsor Al di là Di contributi Che vi possono arrivare Dalle diverse realtà Non sarebbe male O mi sbaglio? No Diciamo che lo sponsor Che ci sta seguendo Più assiduamente È la BCC Che comunque Aiuta un po' Tutto lo sport Cittadino E ormai Sono più di dieci anni Che ci sponsorizza E poi C'è qualche Genitore Che ha qualche attività Con il figlio Che viene Che viene a giocare Quindi ci dà qualcosa E poi ne abbiamo Tre o quattro Tra virgolette Storici Come fossi Panarone L'autocarrozzeria Il centro diesel E Andiamo avanti Così Diciamo che Il grosso Viene fuori Dalle quote Dei genitori Perché tanto Da quelle Non possiamo Siamo riusciti Siamo riusciti però Negli anni A tenere le quote Sempre ferme Solo quest'anno Anche per l'aumento Delle palestre Delle varie Palestre scolastiche Abbiamo aumentato Un pochettino Se no Siamo riusciti a tenere Per anni Sempre la stessa Quota E non è sicuramente Una cattiva notizia Per le famiglie Concludiamo Tracciando quelli Che possono essere Gli obiettivi A breve Medio termine Per il basket fan Noi cerchiamo Noi cerchiamo Di valorizzare Il più possibile I ragazzi Che abbiamo E come ha già detto Luca Ne abbiamo qualcuno Sparso un po' In varie regioni E abbiamo Degli elementi Interessanti Lui ieri Proprio è stato In un concentramento Degli under 14 Dove abbiamo portato Due ragazzi E ci sono Delle società Che Che ci guardano Insomma Ecco Io diciamo Buoni rapporti Con Forlì Che è una società Di A2 Dovremmo metterci Magari a tavolino A fare un discorso Per avere Una società Di un certo livello E con Pesaro Lui Ha toccato E fuga Il problema Con Pesaro Non abbiamo Al momento Rapporti Perché Per rapporto Io intendo Una collaborazione Recipro Una sinergia Esatto Se è solamente Tu ci dai questo E stop Non funziona O limitativo Non funziona Così insomma Luca invece Quali traguardi Insomma Ti senti Di poter Non dico garantire Ma comunque Puoi impegnarti A cercare Di rendere concreti Sicuramente Tra virgolette Il mio sogno È quello di Arrivare Ad avere un impianto In gestione Per il basket fanum Che ci permetterebbe Di avere Una crescita Esponenziale Secondo me Il Presidente Ha detto 200 iscritti È il nostro tetto È il nostro tetto In relazione In queste condizioni Ma io penso Che a Fano Si possa Si possa aumentare Arrivare Perché no A 300 Dividere i gruppi Cioè offrire Alle famiglie Ai ragazzi Un gruppo Del numero giusto Perché se parliamo Di gruppi Di 27 28 Bambini Poi diventa Si abbassa La qualità del lavoro Quindi Noi già partecipiamo A tutti i campionati Della federazione regionale Sono nove campionati Il nostro sogno È quello Di poterci partecipare Con diverse squadre Quindi due squadre Magari per ogni annata Perché le possibilità Ci sono Mancano gli spazi Gli istruttori ci sono Abbiamo istruttori qualificati Tutti tesserati Tutti hanno fatto i corsi E quindi Il nostro sogno È quello di arrivare Ad essere ancora di più Ad ingrandirci ancora E poter alzare Il livello Insomma Del nostro basket Grazie a Luca Deales Responsabile del settore giovanile Del basket fan Grazie al presidente Gianluca Castellani Vi aspettiamo Fra qualche istante È sempre gratificante Per questa trasmissione Occuparsi di sport Che faticano A guadagnarsi La ribalta Di questo sport In particolare Ci siamo Già occupati In passato Ma torniamo A farlo Con piacere Lo sport È l'Ultimate Frisbee E abbiamo con noi Questa sera Diego Signoretti Giocatore allenatore Dell'Ultimate Frisbee Fano Association Sigla Uffa Buonasera Benvenuto E Tommaso Mariani Che invece È giocatore appunto Della squadra fanese Ultimate Frisbee L'abbiamo già fatto In una puntata Della passata stagione Con il presidente Bottegoni E il direttore sportivo Vincenzi Ma con Signoretti Torniamo a spiegare Brevemente Di cosa stiamo parlando Sì Si tratta Di uno sport di squadra Che si pratica Appunto Con lo strumento Del frisbee E quello Tutti l'hanno Abbastanza presente E lo sport Si pratica Su diverse superfici Quindi su sabbia Su erba Però ecco La versione classica È quella su erba Si gioca a 7 contro 7 E come funziona Di base Una partita Ci sono appunto Sette giocatori Di una squadra Che affrontano Sette giocatori Dell'altra C'è un lancio C'è un lancio iniziale Da parte di una squadra Verso la squadra Avversaria E poi Quella squadra Deve ricevere il frisbee E tramite una rete Di passaggi Cercare di avanzare Verso la meta avversaria Per segnare Ecco la dinamica Quella del rugby Anche se chiaramente Lo sviluppo è diverso E le immagini Ci stanno aiutando A capire Esatto Praticamente C'è un'area di meta Dove si deve segnare Il punto Ricevendo semplicemente Il frisbee All'interno Appunto Di questo perimetro E lo scopo Della difesa È quello di Far cadere il frisbee E appunto Se il disco cade O viene intercettato La squadra avversaria Avrà immediatamente La possibilità Di avanzare Nella direzione opposta Per segnare Il proprio punto Quello che colpisce Dell'ultimate frisbee È che non c'è l'arbitro I giocatori Si dirigono Autonomamente Questa è una specifica Assolutamente irripetibile Credo Sì esattamente Appunto C'è molta enfasi Su questo aspetto In pratica Ecco Il giocatore Da subito Fin dalle prime Fasi Di quando uno è principiante Viene responsabilizzato Nei confronti Sia della conoscenza Del regolamento E sia della correttezza In campo Perché appunto È il giocatore stesso A chiamare I propri falli O a segnalare Se c'è stata Un'infrazione Eccetera E niente Questo permette Di giocare Anche a livelli Più alti In un clima Più sereno Quando si dice Fair play Nel senso autentico Del termine Domanda che Viene spontanea Cosa vi ha spinto A scegliere Questo sport? Beh Personalmente Penso Vabbè A parte che Penso che ognuno Abbia la propria motivazione C'è la propria Scintilla Che l'ha spinto Personalmente Io mi ci sono avvicinato Anche relativamente tardi Dopo aver sperimentato Diversi sport Che però Non mi hanno Rapito Però invece qui A circa Vent'anni Per la prima volta Mi sono ritrovato Con degli amici A fare Dei lanci Così Durante una scampagnata E c'è stato Diciamo Questo Amore a prima vista Magari hai scoperto Anche di essere bravino Eh sì Esattamente Quindi ecco Nel momento in cui Ho deciso Di dedicarci più tempo Poi insomma Tutto è venuto Da sé Con il gruppo Di persone Con cui poi Abbiamo fondato La società Nel tuo caso Tommaso Tu hai 18 anni E quindi Anche nel tuo caso Probabilmente Avrai sperimentato Anche altri sport Sì Ho sperimentato Anche altri sport In precedenza E invece Mi sono avvicinato Al frisbee Per la prima volta Nelle scuole medie Quando Alcuni di miei Attuali compagni di squadra Sono venuti A tenere delle lezioni Poi però Ho perso i contatti Con lo sport E mi sono riavvicinato Qualche anno dopo Quando Con il mio gruppo Di amici Delle scuole superiori Molti Di loro Praticavano Lo sport E li vedevo Molto appassionati E Vedevo anche Che si divertivano Molto nel praticarlo Quindi ho deciso Di provare Ho provato E mi sono subito Innamorato Di questo sport E Perché lo ritengo Uno sport divertente E appunto Appassionante E anche molto Possiamo Bello da vedere Nel suo stile Ecco Signoretti E Mariani Sono interpreti Questo sport Direi Ad un più che discreto Livello Prova ne sia Che fanno parte A pieno titolo Del Giro Azzurro In particolare Signoretti Reduce Da un'esperienza Particolarmente Che lo rende Credo Particolarmente Orgoglioso Sì esattamente Diciamo Ho partecipato Con la nazionale Master Master appunto Significa È la categoria Di età Superiore Ai 33 anni E Agli europei Che si sono disputati A Bologna Ad ottobre E La nazionale Appunto Che Racchiudeva Diciamo Tutti I giocatori Più esperti Della Mia fascia Di età E Possiamo chiamare I pionieri Perché Poi è una storia Dell'ottima I frismiss Soprattutto in Italia Non è così antica Esatto Sono tutte anche persone Con cui Negli anni Ci siamo conosciuti Abbondantemente Abbiamo ottenuto Anche un ottimo risultato Perché siamo arrivati I terzi Quindi guadagnandoci Una medaglia di bronzo È un risultato Che comunque È storico E Ci rende molto orgogliosi Non è stata la tua Unica avventura in azzurro Ce n'è stata una Anche nei mesi precedenti Mi pare Ma sì Anche negli anni precedenti Anche come allenatore Ho allenato La nazionale femminile Maggiore Con la quale Siamo andati A Limerick In Irlanda Per gli europei Anche in questo caso Però in questo caso Si trattava degli europei Diciamo Assoluti Assoluti E niente Siamo arrivati In questo caso Quarti Quarti Quindi purtroppo Perdendo la semifinale Però anche in questo caso È stato un ottimo risultato Di un gruppo Che ha lavorato molto bene Per me È diciamo Una passione Che porta avanti Il più possibile Comincia ad assaporare L'azzurro Anche Tommaso Sarai protagonista Di un raduno Il prossimo 26 novembre A Bologna Si tranno i raduni Della nazionale Under 20 Io sono stato Preconvocato Insieme a altre tre I miei compagni di squadra E sì Avevo provato Anche in precedenza A partecipare a questi raduni Che in quel caso Erano aperti Lo scorso anno E anche due anni fa Però non ero mai stato selezionato E quindi Per me quest'anno È una cosa inedita Essere selezionato Per i raduni E cercherò di fare Il meglio possibile Tutti quelli che fanno sport Hanno come obiettivo Vestire l'azzurro E questo anche Il vostro caso? Beh allora Personalmente Nonostante che Mi è capitato Anche altre volte Devo dire che Effettivamente Sembrerà una frase fatta Ma ogni volta È una emozione Perché Soprattutto Nel nostro Che è uno sport Poco conosciuto Eccetera Si tratta Di una delle poche volte In cui Cioè Ci sentiamo veramente Degli atleti Con degli obiettivi Ambiziosi Eccetera Che rappresentano La propria nazione Sì esatto Quindi E comunque Ti vai a confrontare Contro altre nazioni Dove magari Lo sport è anche più Sviluppato Eccetera Ci sono Comunque diverse squadre Che lavorano In modo professionale Per ottenere Per ottenere il massimo risultato Quindi Per me è molto stimolante E penso anche Per i giovani È un obiettivo Che via via Si vede sempre più vicino Devo dire Che quest'anno Abbiamo Quasi una decina Di ragazzi Che In ciascuna categoria Sono stati Convocati Quindi siamo Molto orgogliosi Anche di questo E orgoglioso Deve essere anche Tommaso Per essere entrato In questo giro azzurro Sì assolutamente Sono molto felice Di questo Era una cosa Che inseguivo Da tempo Adesso Ancora Non Diciamo Il passo Che ho compiuto È breve Però comunque È un passo importante Per me Sì Sono veramente Molto felice Di questo Si può parlare Di scuola fanese Dell'ultimate frisbee Oppure esageriamo un po' Perché si parla Di un impegno Ormai Più che ventennale Beh Allora Diciamo di sì Perché comunque Noi cerchiamo di portare avanti Anche a livello tecnico Sulle varie fasce di età Partiamo Anzi Recentemente Abbiamo attivato Un corso Che parte dai 6 Agli 11 anni Poi abbiamo Categorie under 15 Under 17 Under 20 E Assoluta Insomma Quindi che raggruppa Tutti quelli più grandi Di 20 anni E Sì Quindi cerchiamo di Far sì Che il giocatore Nel momento in cui Si avvicina a questo sport Possa avere un percorso Di crescita Che lo può portare Insomma Dove è la sua destinazione Cioè se uno Ha voglia di competere Ad alto livello Ci sarà la squadra Che glielo permette Fino ad arrivare Fino in nazionale Ma Diciamo Abbiamo anche La realtà Un po' Meno competitiva Per chi Magari Ha voglia di farlo A un livello Più tranquillo Giocatori Ma anche giocatrici Esatto Perché l'ultimate frisbee Copre Entrambe le metà Del cielo E anzi Un'espressione tipica Dell'ultimate frisbee È la squadra Mixed Esattamente Uomini e donne Esattamente Quindi ecco Come dicevo Diverse fasce di età Ma anche Uomini Donne E anche La categoria Mixed Noi infatti Non Non raramente Ci alleniamo Tutti insieme Cioè Ragazzi e ragazze Condividono il campo Anche dall'allenamento Poi magari Quando si va a fare La partita O c'è il campionato A seconda della categoria Ci si può dividere Ma ci sono anche Un sacco di occasioni Di allenarsi E giocare insieme C'è anche un campionato Italiano in corso Al quale L'Aliment Frisbee Fano Partecipa Avete anche Organizzato Una tappa a Fano Recentemente Esattamente Si tratta proprio Del campionato Mixed Di serie A E abbiamo organizzato Recentemente Due settimane fa La tappa a Fano Al Donorione Che avete eletto Vostro quartier generale Sì Diciamo È la nostra sede Degli allenamenti Eccetera E appunto Siamo Tra virgolette In partenza Perché questo weekend Ci sono le finali A Padova Dove Appunto Si deciderà Chi sarà il campione D'Italia Non avete cominciato Benissimo Forse vi aspettavate Qualcosa di meglio Purtroppo Avevamo un girone Abbastanza Delicato Che non è andato Come avremmo voluto Abbiamo una partita Molto Anzi Decisiva Il sabato Che poi Ci dirà Se andremo Ai play out Oppure ai play off E quindi Insomma Si vedrà tutto Questo weekend Tornando All'ambito azzurro Ci sono degli appuntamenti Importanti Di qui ai prossimi mesi Quali sono Le aspettative A questo riguardo Allora Per la nazionale In questo momento È un periodo Di raduni Di selezione In cui Le varie compagini Si stanno appunto Formando Per avere appunto Per definire Il roster Degli atleti Questo perché Perché durante Il 2024 Diciamo Nei mesi di luglio Agosto Ci saranno diverse Competizioni Tra cui Gli europei Under 20 Anche i mondiali I mondiali Assoluti In Australia Insomma Ci sono diverse competizioni Durante Il 2024 Che appunto Fanno sì Che adesso Ci sia questa fase Di selezione Le potenze mondiali Nell'Ultimate Frisbee Quali sono? Beh Sicuramente Gli Stati Uniti Dove lo sport È praticamente nato Negli anni 70 E che tuttora Contano diverse Migliaia di atleti E che quindi Competono A tutti i livelli Sempre per Le medaglie Però ecco In Europa Abbiamo l'Italia Che non se la cava Affatto male Quindi lotta Spesso per le prime posizioni L'Inghilterra La Francia La Germania Poi a livello internazionale Anche Australia Canada Giappone Non sono male Bene Grazie a Tommaso Mariani Giocatore dell'Ultimate Frisbee E nel giro nazionale Under 20 Grazie a Diego Signoretti Allenatore Giocatore L'Ultimate Frisbee Fano E della nazionale Grazie come sempre A tutti voi Per averci accompagnato Anche questa sera Vi aspettiamo Martedì prossimo Grazie a tutti